Oggi a questo convegno dell'AES abbiamo presentato la riqualificazione di un albergo avvenuto nel 2013 su Bologna dove abbiamo sostituito interamente di riscaldamento invernale che è di raffrescamente estivo eliminando una vecchia caldaia a gasolio e un vecchio gruppo frigorifero. In questo intervento sono state utilizzate delle pompe di calore da riscaldamento che vanno a lavorare con temperature abbastanza elevate quindi parliamo di 60 gradi e nella fase estiva vanno a lavorare a 7 gradi per alimentare un impianto ventilato idronico. Grazie a questo intervento abbiamo permesso all'albergo di poter godere di 30.000 euro annui di risparmio in costi di gestione tant'è che l'importo dedicato ai lavori è stato ammortizzato in un tempo inferiore ai tre anni. Noi partecipiamo con grande gioia e piacere a tutte queste iniziative che promuove l'AES come in questo caso la settimana della domotica in quanto le nuove metodologie costruttive consentono di avere sistemi di gestione sempre più approfonditi ed edifici sempre più performanti e di conseguenza anche impiantistica sempre più evoluta. Penso che questo sia uno dei rispetti fondamentali che l'associazione promuove e per questo noi siamo felici e onorati di poterne far parte.